Ben trovati, avete avuto modo di vedere tribù di martedì a sera? Sì, finalmente sono riuscito ad avere due parlamentari, anche se devo dire sia Vitali che Caccaforio, il primo popolo delle libertà, il secondo Italia dei valori, bene o male hanno sempre dato la propria disponibilità a partecipare nelle mie trasmissioni, in cui dolce non sono, gli altri sono ancora latitanti e quindi io continuo a spronare con la speranza magari lunedì di poterne avere altri due e proporre le stesse cose che ho detto a Vitali e a Caccaforio. Cosa? Una battaglia vera per Trenitalia, perché se dovessimo andare noi ad occupare la stanza del ministro Passera o dell'amministratore delegato Moretti potrebbero chiamare da un momento all'altro la polizia e indurci a uscire, se noi dovessimo opporre resistenza anche a fermarci, mentre loro che sono parlamentari e godono della immunità possono non essere toccati e quindi continuare a manifestare o a cercare un accordo per ovviare all'isolamento della Puglia e del Salento da parte di Trenitalia, una società privatistica che però va avanti e gode di lauti compensi a tutti coloro che ci lavorano ai massimi vertici, ai massimi livelli, non ce l'ho con i lavoratori del quotidiano, di milioni per indennità e per buone uscite che avranno. E allora ecco perché dico che non ci deve essere questa idiozia da parte di tutti i nostri 60 senatori e deputati di Puglia e una ventina del Salento a star fermi o a chiedere tavoli in cui discutere l'ipostesi e la possibilità. Nella trasmissione Vitali non era d'accordo a questa presa di coscienza forte che proponevo io, poi successivamente è venuto incontro perché ho tentato di spiegare il motivo per cui ci vuole il pugno di ferro contro un governo e contro Trenitalia che è contro sia l'uno che l'altro ai nostri territori e forse si è convinto, chissà se realmente riusciremo a far provocare questa sommossa democratica da parte delle istituzioni, sì perché i parlamentari appartengono alla istituzione più importante del nostro paese e portare a casa un risultato. Secondo Vitali sarebbe più opportuno dialogare con il ministro Passera perché è lui che deve prevedere i soldi per Moretti, Trenitalia e io ho detto sì, allora andate a occupare la stanza di Passera, basta con questi dialoghi, con questi tavoli, non servono più a nulla. Per cui io sono già lieto del fatto che questi primi due rappresentanti del Salento di momenti politici differenti, centrodestra il primo, centrosinistra il secondo, Vitali e Caforio abbiano almeno voluto ascoltare. Spero che promettano quanto hanno promesso in trasmissione di sensibilizzare gli altri e avviare realmente una battaglia forte per tutelare la Puglia e il Salento. Sì perché altrimenti poi non possono domandarsi il motivo per cui gli elettori scappano da quel voto che loro credono di poter canalizzare, che loro credono di poter controllare e magari poi gli elettori stessi guardano ad altre formazioni politiche, localistiche o nazionali che non sono interpreti dell'antipolitica ma sono interpreti di cosa? Di una rabbia che ormai non può essere, come dire, sopita, nascosta. Sì questo è perché io a Tribù sono stato così incisivo con Vitali e Caforio perché tutti devono comprendere che ciò che si dice in questi spazi, lì dove non c'è un confronto con i nostri rappresentanti, tutto questo deve essere riproposto a loro perché noi esigiamo delle risposte e io non mi sono mai nascosto dietro un dito, non le ho mai mandate a dire ma le ho sempre dette appena qualcuno invece di aver timore ha accettato il confronto con il sottoscritto. A domani. Grazie a tutti.